Mafie sempre più infiltrate nell'economia aumentano le operazioni sospette denunciate dai circuiti bancari. Dilaga il riciclaggio di denaro sporco in Italia, sempre più diffuse le segnalazioni legate a casi che riguardano l'economia fisica, ma anche operazioni digitali sospette, in crescita negli ultimi tre anni dopo la pandemia, più 85% tra il 2022 e il 2023. Sarebbero oltre quota 53.000 quelle denunciate nel circuito bancario nel 2023, riconducibili a organizzazioni criminali. Roma, la città con il maggior numero di infiltrazioni mafiose, seguita da Milano, Napoli, Torino, Brescia, in cima alla classifica delle città dove si registrano operazioni sospette collegate a organizzazioni criminali. L'allarme è ai massimi in Lazio, Lombardia e Campania, che insieme raccolgono addirittura un terzo dei movimenti di denaro sporco accertati dalle forze dell'ordine sul suolo nazionale. Legalità sempre più a rischio, secondo i dati di un'impresa a Reggio Calabria, Caserta e Napoli, dove la quota di alert mafiosi è superiore o vicina al 50%. Una mafia sempre più scaltra e tecnicamente preparata, dai dati emerge un'esplosione dell'infiltrazione mafiosa nell'economia reale e nella finanza. Un'impresa chiede al governo provvedimenti immediati. Il monitoraggio dei flussi che passa da internet è ancora poco accurato e in buona sostanza è a carico delle banche che poi devono fare le segnalazioni, per quanto riguarda le operazioni ritenute scorrette. Servono quindi maggiori strumenti tecnologici e maggiore coordinamento tra le forze deputate al controllo, specialmente tra le banche, la magistratura e le forze di polizia.